Oggi parliamo dei casi d'uso, come vi ho già anticipato quando parlavamo del documento dei requisiti, i casi d'uso sono uno degli strumenti, quello che approfondiremo meglio, attraverso il quale poter esprimere una parte dei requisiti funzionali per il nostro sistema. Quindi entriamo un pochino più nel concreto, il contesto è documento dei requisiti, in particolare requisiti funzionali, in particolare una specifica modalità di descrizione dei requisiti funzionali che si basa, come vedremo, su una combinazione di una notazione grafica e di un testo strutturato. Tra le varie modalità che abbiamo visto ieri, si andava dal testo libero alle tabelle, alle formule, eccetera, noi abbiamo una combinazione di rappresentazione grafica che sarà, prenderà il nome di diagramma dei casi d'uso, combinata del testo strutturato. Quindi, spenderemo le prossime due settimane in laboratorio a lavorare su questo tipo di rappresentazione, prima vedendo una versione più semplice e poi la settimana successiva, imparando a fornire un livello di dettaglio maggiore. Questo è un formalismo, ma non è tanto il formalismo, ma quanto proprio l'approccio, che ha la sua storia, che risale appunto agli anni 90, e è un metodo che ci permette di descrivere, soprattutto in caso di sistemi che siano poi progettati in modalità oggetti, orientata agli oggetti, di descrivere la risposta del sistema in certi scenari, certi scenari visti molto dal punto di vista dell'utente finale, quindi da chi realizza il sistema. A noi piacciono questi casi d'uso proprio perché è una rappresentazione molto comprensibile e diretta della funzionalità del sistema e non si perde troppo nei dettagli tecnici. Cosa fa un caso d'uso? Un caso d'uso va a catturare, descrivere, le informazioni in base alle quali si può capire qual è, diciamo così, il comportamento che un utente del sistema si aspetta dal sistema stesso. Qui nella slide è indicato come contratto, uno stakeholder che può essere un utente del sistema tra virgolette per contratto, si aspetta che il sistema risponda in un certo modo, si comporti in un certo modo. Allora, l'insieme di questi comportamenti che il sistema espone fa vedere agli utenti, quindi in qualche modo stiamo ignorando i comportamenti interni, cosa fa il suo interno. Ci concentriamo sui comportamenti esterni che coinvolgono l'interazione con l'utente e di solito questa interazione avviene a seguito di una richiesta da parte di un utente del sistema stesso. Quindi qua, per la prima volta, compare esplicitamente nelle nostre discussioni l'utente del sistema. Diamo un nome finalmente all'utente del sistema. L'avevamo già fatto in parte nei modelli di processo dove avevamo attribuito una responsabilità, no? Questa fase del processo è responsabilità, facevamo le colonne, le swim lanes per indicare chi era responsabile di portare avanti il processo. Però non avevamo mai ragionato poi effettivamente sulle persone e sui ruoli di queste persone. Perché è, diciamo così, scopo di un livello più dettagliato rispetto al modello di processo che è questo che ci stiamo prestando a studiare. Spero che ragionare sugli utenti possa aiutare anche quelli che come mi è stato un po' raccontato, continuano a avere problemi sul modello concettuale e a mettere delle classi che in realtà corrispondono agli utenti. Mi sembra che le classi facciano le cose, ma su questo ci ritorneremo la settimana prossima. Vorrei dedicare una lezione a risolvere i dubbi sull'esercizio che avete visto ieri. Quindi non mettiamo la soluzione subito. Provate a finirlo in questa settimana, così una delle lezioni della settimana prossima proviamo a riprendere, così chiudiamo quel capitolo. Nel frattempo però andiamo avanti di qua. Allora, quando pensiamo all'interazione di un utente col sistema, vi viene da dire un utente, quasi sempre, uno solo, salvo rare eccezioni, di solito l'interazione col tipo di sistemi informativi che abbiamo è individuale. Magari ci sono 100 utenti collegati al sistema, ma ciascuno sta facendo i fatti propri, sta attivando procedure diverse, sta selezionando operazioni diverse. E ciascuno di questi è un singolo comportamento che dovrebbe soddisfare le richieste dell'utente. Allora, questo utente noi lo chiamiamo attore. o più precisamente attore principale, primary actor, o attore primario, a volte useremo anche la traduzione così un po' garibaldina, l'attore principale nel caso in cui ci sia più di un attore, effettivamente. Allora, l'attore che cos'è? È la tipologia dell'utente che in quel momento sta usando il sistema per svolgere un determinato compito. Quindi, se sto pensando al portale della didattica, l'attore può essere studente, o meglio, ancora studente iscritto. Non mi importa chi si chiami Mario Rossi, perché tutti i Mario Rossi e il Paolo Verdi e il Giuseppe Viola, dal punto di vista dell'interazione col sistema, avranno le stesse capacità. Potranno richiedere le stesse cose e il sistema tendenzialmente risponderà nello stesso modo. Chiaramente non con gli stessi voti, ma con la stessa sequenza di operazioni e con lo stesso processo da seguire. Ma, sullo stesso sistema informativo, l'utente che ha ruolo, invece di segretario della segretaria studente, ha accesso a tutta una serie di funzioni completamente diverse. e l'utente che ha il ruolo, o meglio, diciamo così, gioca il ruolo in persona, l'attore docente, avrà, sempre sullo stesso sistema informativo, accesso a funzionalità diverse. Quindi, ogni attore del sistema corrisponde a un gruppo di utenti che hanno ruoli diversi e accesso a funzioni diverse nel sistema. Un caso duro descrive, partendo dal punto di vista dell'attore principale, come il sistema reagisce quando l'attore principale chiede una certa cosa o desidera compiere una certa funzione. Quindi noi, quando pensiamo un caso duro, ci mettiamo nei panni di un attore, adesso faccio finta di essere uno studente, adesso faccio finta di essere la segreteria, adesso faccio finta di essere... e così via. Mi pongo nei panni di quell'attore e in particolare mi definisco qual è l'obiettivo specifico, questo goal che è indicato qua, che quell'attore intende perseguire in questo momento specifico. Cioè, voglio prenotarmi un esame. Sono un studente, voglio prenotarmi un esame. Allora, questa è l'informazione di partenza per poter poi descrivere come si svolge l'interazione tra l'utente e il sistema quando l'utente studente vuole raggiungere l'obiettivo prenotarsi all'esame. E quindi, in caso d'uso, narra, e vedremo proprio che cercheremo di svilupparlo attraverso una serie di passaggi narrativi, narra come l'utente, l'attore, raggiunge il suo scopo, o meglio, narra come il sistema informativo supporta l'utente nel raggiungimento dello scopo, perché poi noi raccontiamo cosa fa l'utente, ma lo stiamo facendo per descrivere che cosa deve fare il sistema informativo. Quali sono i requisiti per il suo sistema informativo. quindi, lo scopo di una descrizione con il caso d'uso è quello proprio di descrivere, in un certo senso, a un dettaglio più fine ciò che avviene in una determinata fase del processo. Quindi noi, in qualche modo, lo possiamo quasi legare, non in modo 1-1, non sempre in modo 1-1, ma con i vari blocchi del nostro diagramma di processo. Quando a un certo punto, in un diagramma di processo, c'è scritto l'utente, si iscrive alla gara, allora quella è una funzione che l'utente, corridore, vuole portare a termine. Quella è, in quel processo, in quell'attivity, nel nostro modello di processo, identifichiamo un attore, identifichiamo uno scopo, un obiettivo di quell'attore. Adesso dobbiamo descrivere qual è la risposta del sistema o come il sistema può permettere a quell'attore di eseguire quella funzione. Qual è la modalità di interazione tra utente e sistema. E quindi, in qualche modo, ci permette di concentrarci sul comportamento, sui requisiti che si applicano al comportamento del software, di tipo prettamente funzionale. Cosa fa il sistema, cosa deve offrire, quale tipo di interazione deve offrire all'utente. In qualche modo, si lascia scappare anche in caso d'uso certe assunzioni, certe ipotesi su come è progettato poi il sistema. Quindi, che cosa sono capaci a fare bene in caso d'uso è raccontare requisiti comportamentali o funzionali. Ciò che invece non sono in grado di fare molto bene sono le altre interazioni che il sistema ha con tutto ciò che non è l'utente. Ad esempio, se il sistema informativo, per svolgere un certo compito, deve poi a sua volta avvalersi di informazioni di altri sistemi informativi o di altre basi dati, a questo non compare. Perché non coinvolge direttamente l'interazione con l'utente. Tutta la parte del modello concettuale, del modello dati, non compare. È dentro il sistema informativo. L'utente non la vede. Quindi, in qualche modo, il caso d'uso racconta il comportamento del sistema, o meglio, la parte del comportamento del sistema di cui l'utente ha esperienza diretta. L'utente è di un certo tipo nel momento in cui svolge una funzione per ottenere un certo obiettivo. Quindi, con questa premessa riusciamo a leggere meglio la definizione formale che si dà di che cosa è un caso d'uso. Un caso d'uso, innanzitutto, è un insieme di interazioni tra utente e sistema. Interazioni che sono scambi di informazioni, essenzialmente. informazioni che il sistema dà all'utente, in qualche modo, gliele mostra su qualche videata, su qualche applicazione mobile, con i suoni, con le luci lampeggianti, con gli elicotteri che scendono. In qualche modo, il sistema fornisce informazioni all'utente e altrettanto l'utente fornisce informazioni al sistema immettendo dei dati, schiacciando dei bottoni, selezionando delle voci, passando in un certo luogo, strisciando un badge o altro tipo di modalità. Nella descrizione del caso d'uso, quali siano le modalità con cui avviene questo scambio di informazioni, non ci interessa ancora. Può essere vario. L'importante è capire quali sono invece le informazioni che vengono scambiate e tendenzialmente anche in quale ordine. Quindi, un insieme di interazioni. Non l'interazione singola. Un caso d'uso non è una singola interazione, vado lì e schiaccio il bottone ok. Un caso d'uso del tipo uso per dire un motore di ricerca, per descrivere come si usa un motore di ricerca, il caso d'uso non è clicca sul bottone ricerca. Perché quella è un'interazione isolata. Da solo non ci dice nulla. Noi dobbiamo fare un passo indietro e chiederci ma perché l'utente? Cosa vuole fare l'utente quando clicca su quel bottone? Perché quello è il ragionamento dell'utente. Voi quando dite apro Google per non dite mai apro Google per schiacciare sul bottone cerca. Dite apro Google per trovare informazioni sull'orario dei treni. Per trovare i treni apro Google per trovare informazioni. Quello è lo scopo. L'obiettivo che ti dai. per trovare informazioni hai una serie di interazioni la cui prima apro Google la seconda sarà scrivere qualche cosa tipo l'orario dei treni la terza sarà schiacciare il bottone cerca e la quarta sarà leggere i risultati che vengono proposti ed eventualmente selezionarli uno. Tutto questo insieme di interazioni è un unico caso d'uso perché è composto da una serie di passaggi che servono tutti per raggiungere il mio obiettivo. Qual è il mio obiettivo? Trovare l'orario di un treno o di altro. Quindi un caso d'uso non ha senso se non è definito qual è l'obiettivo che l'attore si pone nel momento in cui inizia ad approcciarsi il sistema io vado al sistema per svolgere qualcosa per soddisfare un mio obiettivo e ovviamente il caso d'uso si completerà quindi il caso d'uso nasce quando l'utente ha un bisogno ha un obiettivo il caso d'uso si chiude quando l'utente ha soddisfatto il proprio bisogno quindi ha l'informazione in mano il caso d'uso non si può chiudere quando l'utente ha schiacciato cerca perché dopo aver schiacciato il caso cerca non ha raggiunto l'obiettivo l'obiettivo era quello di sapere un orario ma solamente quando sarà sulla pagina in cui c'è l'orario e l'ha potuto leggere quindi immaginiamo gli utenti che nelle loro attività si pongono dei piccoli obiettivi adesso voglio fare questo questi obiettivi non sempre sono soddisfacibili con un'interazione unica che ne so spegner la luce significa schiacciare un bottone fine no non sono qua vabbè prima devo trovare il bottone l'interazione è finita c'è un'azione unica un'interazione unica ma nei sistemi informativi di solito per raggiungere un certo scopo saranno necessarie più interazioni concatenate in sequenza una adesso e l'altra domani quindi un insieme di interazioni estremamente correlate che servono tutte per raggiungimento di un certo scopo per quello viene chiamato goal oriented e queste interazioni tra chi sono un'interazione sempre tra due entità le quali sono da un lato l'attore gli attori in particolare l'attore principale e dall'altro genericamente parliamo di sistema tra utente l'attore primario del caso e sistema noi descriviamo cosa fa l'utente per prescrivere cosa il sistema dovrà fare questo è il punto di vista gli ingredienti principali ovviamente sono l'attore il sistema che dovrà rispondere all'attore e soprattutto l'obiettivo che l'attore si pone ogni combinazione obiettivo attore mi genera un caso d'uso diverso quel determinato attore può avere centinaia di obiettivi diversi ciascun obiettivo sarà soddisfatto da una modalità da una sequenza di interazioni diversa con il sistema quindi da piccoli percorsi piccole storielle piccole narrazioni che sono tutte diverse l'una dall'altra quindi come attore questo abbiamo già detto non parliamo del singolo utente ma del tipo di utente della categoria a cui appartiene l'utente che in questo momento sta interagendo col sistema per raggiungere quell'obiettivo dove però anche lo stesso utente potrebbe in momenti diversi giocare ruoli diversi cioè è lecito è possibile è normale che lo stesso utente fisico la stessa persona possa impersonare attori diversi perché magari ha responsabilità diverse ha ruoli diversi quindi in alcuni momenti esegue certe funzioni che sono di un certo tipo di che sono riservate a un certo tipo di attori ma lui stesso può in un altro momento giocare anche un altro ruolo che ne so pensiamo a un team di persone che lavora su un progetto allora tutti possono impersonare l'attore membro del team e poi ce ne sarà uno che invece è responsabile del team il team leader la persona che è team leader è contemporaneamente sia team leader che membro del team quindi quella persona fisica in momenti diversi potrà svolgere i compiti quindi applicare i propri obiettivi come membro del team oppure come team leader il viceversa non è vero perché una persona che sia normalmente un team leader non ha accesso diciamo alle funzioni non può fare le cose che il team leader può voler fare magari vorrebbe ma il sistema non lo deve lasciare quindi in qualche modo nel definire chi sono gli attori del sistema ci stiamo chiedendo quali sono gli insiemi non necessariamente disgiunti di ruoli con cui i nostri utenti si possono approcciare al sistema e poi ovviamente le singole persone si caleranno in quel ruolo nei vari casi d'uso sul sistema nei casi d'uso dobbiamo nel descrivere un caso d'uso dobbiamo astenerci il più possibile dal dire come è fatto o come funziona dentro non ci interessa noi dobbiamo catturare l'interazione quindi l'interfaccia tra l'utente e il sistema poi cosa fa il sistema dentro non mi interessa non lo voglio dire qui ovviamente sarà fondamentale poi nelle fasi di progetto successive ma in fase specifica io devo dire questa sequenza di interazioni ad ogni passo il sistema che cosa mi fornisce quale informazione mi fornisce ovviamente l'obiettivo è il motivo possiamo definire così come il motivo per cui quell'attore in quel momento ha deciso di usare il sistema e il motivo non è mai quasi mai fine a se stesso cioè l'attore non ha come obiettivo quello di usare il sistema sarebbe ben triste questa persona a meno che non sia un gioco ma non è mai l'uso del sistema l'obiettivo in sé ma è il risultato che si ottiene nell'usare il sistema che è il mio obiettivo accendo il computer per apro quel sito per ma questo è l'obiettivo che dobbiamo esprimere che l'utente deve esprimere allora nel momento in cui l'utente ha un obiettivo si approccia al sistema io devo dire che il sistema è in grado di permettere a quell'attore di raggiungere il suo obiettivo e spiego come e spiego quale interazione è necessaria all'utente quando sono fortunato cioè mai l'interazione è un'interazione lineare io faccio questo il sistema risponde così seleziono una voce il sistema mi dà la conferma e io chiudo io ho fatto nella maggior parte di interazioni però non c'è quasi mai una sequenza fissa ma possiamo immaginare magari una sequenza principale la posso chiamare normale o di base di interazioni di passaggi quindi questa sequenza principale a cui però possiamo immaginare delle estensioni delle varianti delle eccezioni io posso dire inserisco il termine della ricerca clicco sul bottone cerca il passo successivo sarà il sistema che mi dice vi fornisce l'elenco dei risultati però può esserci il caso anomalo in cui non c'è nessun risultato allora questo fa parte di un percorso alternativo eccezionale eccezionale nel senso che è un'eccezione no nel senso che è bellissimo oppure può darsi il caso in cui l'utente fa una prima ricerca vede risultati e poi non soddisfano loro modificano la ricerca la rifà di nuovo allora questa è una variante rispetto al percorso semplice diretto una variante che non è eccezionale ma è possibile una biforcazione diciamo così del percorso quindi noi impareremo a descrivere questi casi d'uso descrivendo innanzitutto il percorso principale la sequenza di interazioni centrale fortunata e poi a descrivere varie varianti che possono essere o varianti positive cioè alla fine raggiungo l'obiettivo ma lo raggiungo facendo dei passaggi diversi o dei passaggi in più oppure varianti negative varianti nelle quali non riesco a raggiungere l'obiettivo per tanti motivi non ho il password la risposta non c'è l'utente non è registrato insomma mille intoppi che possono succedere ad ogni singola interazione quindi in questa narrativa raccontiamo cosa può succedere all'utente quando interagendo col sistema vuole raggiungere un obiettivo cercando di descrivere tutto ciò che può succedere chiaramente senza uscire dal tema il tema è raggiungere quell'obiettivo lì quindi le varianti dei percorsi che il sistema deve supportare nel cercare il sistema nel cercare di supportare l'utente nel raggiungere l'obiettivo ok andiamo a approfondire i vari ingredienti l'attore è un umano di solito è una persona è un utente vero che è esterno al sistema e interagisce col sistema quindi per quello che possiamo parlare di interazioni l'utente non fa parte del sistema l'utente interagisce col sistema poi più avanti ma non nei casi d'uso quando parleremo di interfacce ci chiederemo come fa l'utente interagire col sistema come facciamo progettare l'interazione per ora ci concentriamo su quali sono le informazioni che si scambiano e in che ordine poi ci chiederemo anche come diciamo così graficamente vengono realizzate in un caso d'uso di solito si identifica un attore principale come dicevamo che è colui che ha l'obiettivo che sta cercando di realizzare l'obiettivo in alcuni casi possono esserci anche degli attori secondari che sono ulteriori utenti che collaborano al raggiungimento dell'obiettivo interagendo anch'essi col sistema col sistema raramente ci sono questi attori secondari perché significa avere due persone che materialmente stanno interagendo sullo stesso task col stesso sistema informativo un esempio che mi viene è quando andate al supermercato e pagate con la carta di credito o col banco ma è più facile allora in quel caso c'è l'obiettivo pagare può chiudere il conto che può essere l'obiettivo della cassiera perché il lavoro lo farei ma se pagate col banco ma da un certo punto voi dovete inserire il PIN quindi in quel momento in quel frangente siete due persone diverse che stanno interagendo con lo stesso sistema informativo al fine di raggiungere lo stesso obiettivo quindi è un unico caso d'uso non è scindibile se voi viene andata a metà senza battere il PIN il caso d'uso è fallito non è completato non può chiudersi ah no ma ci penso lo inserisco dopo no non puoi quindi questo è un caso uno dei pochi casi in cui siete in due a pigiare i tasti diciamo così sullo stesso sistema informativo diverso sarebbe se invece che ne so l'addetto l'impiegato andate che ne so aprire un conto corrente online in una banca andate fisicamente in una banca aprite allora l'impiegato carica i vostri dati vi registra e poi voi vi arriva una mail o qualche notifica vi dovete vi dovete confermare la registrazione magari inserendo il vostro codice allora se voi dici ma è la stessa cosa perché alla fine in entrambi i casi devo inserire un codice sì ma nel primo caso dobbiamo essere entrambi presenti in quel caso addirittura nello stesso luogo e contemporaneamente devo lavorare contemporaneamente e congiuntamente per raggiungere l'obiettivo nell'altro caso io posso poi andare a casa mi collego alla casa inserisco il codice quello è un caso d'uso separato cioè la registrazione l'apertura del conto corrente o dell'account è fatta di due fasi immaginate il processo l'impiegato inserisce e carica i dati poi il sistema informativo invia la notifica all'utente l'utente conferma inserendo il proprio codice sono due attività diverse nel processo possono passare minuti ore giorni dalla conclusione della prima all'inizio della seconda ma in questi minuti ore giorni voi non avete l'impiegato della banca che era il nostro esempio che sta col fiatto sospeso perché il suo obiettivo non è ancora stato raggiunto lui ha chiuso fine no quell'attività lì è stata chiusa quindi quel caso d'uso è esaurito ha raggiunto l'obiettivo poi il fatto di raggiungere un obiettivo fa sì che seguendo l'indicazione del processo del modello di processo tu come altro utente a questo punto sei tu l'utente primario l'attore primario di un altro caso d'uso che sarà quello dell'attivazione o conferma di attivazione del conto collegandoti inserendo il codice eccetera quindi è normale che in un sistema informativo ci siano molti attori che fanno cose diverse non è normale è raro non è impossibile è raro che più attori collaborino contemporaneamente nello stesso caso d'uso di solito questi attori lavorano ciascuno su casi d'uso diversi che sono poi coordinati a livello di processo a livello di processo un po' l'avevamo visto no? quando facevamo l'attivity diagram ogni singola attività la mettevamo in una colonna piuttosto che un'altra piuttosto che un'altra ancora ma la colonna era una che vuole dire che era quell'utente lì quel ruolo lì che doveva essere svolto quindi ci sono dei casi in cui ci sono degli attori secondari ma per poter essere un attore secondario tu devi interagire col sistema e contribuire a questo obiettivo specifico descritto in questo caso d'uso entrambi le condizioni quindi se tu interagisci col sistema ma in un momento separato e l'attore principale invece riesci a raggiungere l'obiettivo anche senza richiedere il tuo intervento allora non sei un attore di questo caso così come se sei lì presente parli con l'attore primario lo tocchi ma non tocchi il sistema non sei un attore secondario facciamo ad esempio il supermercato di prima se anzi che il banco pagassi con la carta di credito io non sono un attore perché devo semplicemente mettere una firma su un pezzo di carta non sto interagendo col sistema in nessun modo sto interagendo con l'attore primario ma il sistema non lo sa il sistema non sa se io ho messo la firma non l'ho messa se l'attore primario la cassiera ha scratolato uno scarabocchio o chissà al limite potrebbe essere la cassiera che schiaccia un bottone per confermare che io ho firmato non so se lo debba fare o no non ho idea ma questa è comunque un'azione fatta dalla cassiera non dal cliente quindi in quel caso il cliente non interagisce con il sistema e quindi non compare come attore anche se è lì fisicamente a meno che vi sarà già capitato di andare in quei posti in cui dovete firmare con la pena elettronica su un display e non sul pezzo di carta mi viene in mente l'IKEA mi sembra che sia fatta così perché tu non firmi su un pezzo di carta ma devi fare la tua firma su un display sensibile al tocco allora in quel caso anche il pagamento con carta di credito interagisce con il sistema perché è il sistema che acquisisce la firma allora lì siete attori ok il criterio è questo vabbè questa parte qua l'attore dicevamo dicevamo deve o perlomeno si approccia il sistema per raggiungere un certo obiettivo l'obiettivo è lo dobbiamo scrivere esprimere dal punto di vista dell'attore e deve dare un certo valore un'utilità dal punto di vista ancora dell'attore no? come dicevamo prima l'obiettivo è trovare l'orario e non è schiacciare il bottone l'obiettivo è prelevare i soldi non è inserire il ping stiamo pensando qua a un banco ma per esempio qual è il motivo per cui vado ok quindi dobbiamo fare lo sforzo di capire qual è l'utilità del sistema per l'utente e detto in parole diverse visto che siamo nel mondo dei requisiti funzionali quali sono le funzioni che il sistema deve offrire ai propri utenti ma non le funzioni che il sistema deve avere punto perché se una funzione c'è è perché serve a qualcuno perché deve servire a qualcuno allora non c'è modo migliore non c'è modo più semplice più diretto di spiegare perché e a che cosa serve una funzione che spiegarti come fa l'utente a usarla e perché la vuole usare quindi noi stiamo parlando del sistema anche se lo facciamo dal punto di vista dell'attore stiamo dicendo quella funzione serve perché serve a soddisfare certi obiettivi certi bisogni dei miei di una di un certo insieme dei miei utenti cioè quelli che giocano quel ruolo di attore quindi lo possiamo sempre esprimere con una frase di questo genere l'obiettivo del caso d'uso nel mio ruolo di studente io voglio iscrivermi nell'esame in modo da poterlo sostenere quindi ho un obiettivo vero e so che per raggiungere questo obiettivo deve compiere una certa azione attivare una certa funzione nel sistema informativo funzione che a cui io avrò accesso perché rientra tra le funzioni che sono state progettate o che stiamo progettando per quel tipo di attore poi questo è il titolo se vogliamo nel caso d'uso l'obiettivo la prima riga poi andremo a spiegare come per inciso nel momento nel momento in cui dico che questo caso d'uso è accessibile a un determinato tipo di utente sto in qualche modo sottintendendo sottintendendo che il sistema informativo è capace di riconoscere gli utenti l'uno dall'altro quando io dico come docente posso registrare gli esami voglio registrare gli esami in modo da chiudere il verbale il sistema informativo deve riconoscere che io che sto usando il sistema in questo momento sto giocando il ruolo di docente e ho il diritto di farlo quindi tutti i casi d'uso in qualche modo quasi tutti in qualche modo presuppongono una certa identificazione dell'utente vuol dire che l'utente avrà messo la password prima oppure che sta accedendo da un terminale che fisicamente è accessibile solamente a una persona che ha quel ruolo che ha potuto arrivarci oppure ci ha messo una chiavetta oppure aveva un certificato digitale che gli permette oppure sta usando un terminale insomma i metodi sono milioni no milioni no ma decine attraverso i quali il sistema può diciamo autorizzare l'utente riconoscere l'utente specifico e quindi sapere quali sono i ruoli che questo utente può avere e di conseguenza quali sono gli obiettivi che gli attori di quel tipo possono perseguire quindi vuol dire che alla fine ci sarà se un sistema invece non ha bisogno di questo non ha bisogno ci sono certe funzioni in un sistema pensate che non so sui siti pubblici di informazione o qualunque altra cosa ci sono le pagine pubbliche visibili da tutti allora a quel punto noi dovremmo pensare a una figura di attore tipo attore generico o anonimo o sconosciuto e dire che cosa può fare l'utente generico che è diverso da dire cosa può fare l'attore studente ma pensate che quando voi andate sul sito del Politecnico potete giocare questi due ruoli attore generico o studente finché non inserite la password potete fare solamente le cose che l'attore generico può fare dal momento in cui vi siete vi autenticate il sistema potete fare sia le cose che può fare l'attore generico sia le cose che può fare lo studente e questo come lo esprimiamo cominciamo a darci un po' di notazione grafica per per aiutarci nella nostra rappresentazione UML esiste un diagramma che si chiama diagramma dei casi d'uso use case diagram in italiano lo dico al plurale diagramma dei casi d'uso perché come vediamo è un diagramma che ci permette di avere un po' un indice un sinottico una vista d'insieme di quelli che sono i casi d'uso offerti dal sistema poi per il dettaglio di che cosa fa ciascun caso d'uso useremo come viaggiore anticipato del testo strutturato quindi lo scriviamo in word per capirci però la vista d'insieme la possiamo realizzare così allora i due elementi grafici principali che useremo in diagramma dei casi d'uso sono l'attore e il caso d'uso poi ci arriviamo a costruire queste cose ma nel diagramma dei casi d'uso gli attori sono identificati da questi omini stilizzati nell'esempio che abbiamo fatto prima del portale della didattica del Politecnico abbiamo detto che può esserci un utente generico e può esserci un utente studente e questi due tipi di utenti questi due attori faranno cose diverse quindi senza mettere ancora dei nomi nei casi d'uso pensiamo di avere due casi d'uso possiamo pensare che lo studente può svolgere un certo caso d'uso che ne so prenotati all'esame mentre l'utente generico può svolgere qualche altro caso d'uso che ne so consulta l'elenco dei corsi ma tu come studente puoi anche fare le cose che faceva l'utente generico sia prima di inserire il tuo login quindi prima che l'utente fosse prima che il sistema fosse in grado di incasellarti e riconoscerti come studente lo potevi fare ma anche dopo allora il ma anche dopo potrebbe convincermi a fare una cosa di questo genere l'utente può fare i casi d'uso lo studente perdono può fare i casi d'uso previsti per gli studenti ma anche quelli previsti per gli utenti generici solo che così è un casino perché immaginate di avere non due ma 20 vuol dire che tutti quelli di sopra devo anche collegarli all'omino di sotto e se aggiungo un terzo ruolo che è il docente anche questo docente potrà fare tutte le cose che può fare l'utente generico non quelle dello studente ovviamente come lo posso risolvere lo posso risolvere modellando la ereditarietà tra i tipi di utenti tra gli attori quindi ricordiamo che la freccia con la punta triangolare vuota l'avevamo già usata nei modelli concettuali per rappresentare una sottoclasse e qui la riusiamo di nuovo con lo stesso significato gli studenti sono un sottoinsieme degli utenti generici sono un caso particolare di un utente generico sono una restrizione dell'utente generico sono una sottoclasse dell'utente generico tutti i modi equivalenti di dire la stessa cosa la freccia va sempre dal più particolare verso il più generale verso il caso generale e questo cosa vuol dire? vuol dire che tutto ciò che l'utente generico ha viene automaticamente ereditato dal ruolo più specifico dall'attore con ruolo studente quindi in qualche modo il fatto che l'utente generico posso partecipare al caso giusto zero viene ereditato anche dall'utente studente che potrà partecipare ovviamente al caso zero perché viene ereditato e in più al caso uno che è un'informazione specifica definita a livello di sottoinsieme o di sottoclasse o di sottoattore o di attore più specifico quindi ancora prima ancora prima di definire l'elenco di tutti i casi d'uso vedere quali relazioni ci sono il primo passaggio che possiamo fare è di ragionare su quali sono quali sono gli attori abbiamo l'attore docente che anche lui è un tipo è un tipo quindi uso questa freccia qua di utente generico posso avere il personale della segreteria allora chiamo un altro attore segreteria che anche lui è un tipo di utente generico in realtà posso fare di meglio perché il docente e la segreteria hanno qualcosa in comune che sono entrambi dipendenti quindi c'è tutta una parte che ne so delle funzioni legate alla didattica di cui il docente vede certe cose e l'impiegato della segreteria ne vede completamente diverse può fare cose completamente diverse ma io l'impiegato della segreteria abbiamo in comune che essendo entrambi dipendenti abbiamo accesso che ne so a tutta fatemi dire agli stipendi alle informazioni contrattuali eccetera la parte di intranet che è riservata a tutti i dipendenti allora anche lì questa cosa la possiamo anche strutturare meglio possiamo avere un altro attore generico che è il dipendente e quindi dire che l'addetto della segreteria è innanzitutto un dipendente il docente è un dipendente ed entrambi sono tipi di utente generico dipendente con la D magari quindi quando ragioniamo sugli utenti del sistema tendenzialmente arriviamo a disegnare degli alberi gerarchici di questo genere poi questa classe questo attore dipendente potrà avere anche molte altre sottoclasse oppure può darsi che ci sia qualcuno che è come dire dipendente generico e non ha bisogno di specificare un ruolo particolare rispetto al sistema informativo allora qui dietro a questi omini ci sono le persone che usano il sistema non nelle classi del modello concettuale ok quindi nel modello concettuale al 99% non c'è una classe che si chiama segreteria o impiegato della segreteria chi fa le cose chi è la persona il ruolo chi ha il permesso di accedere a certe funzioni è una questione dell'uso del sistema non dei dati delle informazioni che il sistema tratta ok quindi cerchiamo abbiamo uno strumento diverso per rappresentare chi fa che cosa che non è il modello concettuale lo ripeto perché molti continuano a cascare diciamo così in quella tipologia di errori quindi un un ingrediente dei casi d'uso mi verrebbe da dire quasi il primo ingrediente è identificare chi sono gli attori quali sono i diversi ruoli con cui ogni singola persona può approcciarsi al sistema non è detto non è detto che questi ruoli siano tra i loro disgiunti lo dicevamo prima anche in un diagramma di questo genere noi abbiamo sto pensando delle persone che sono segretari della segretaria studenti che sono iscritti ad alcuni corsi di laurea nostri quindi sono anche studenti nostri perché magari si sono iscritti col titolo di studio del diploma lavorano qua da anni ma sono qua cerco di prendermi anche la laurea e si sono iscritti non è vietato è chiaro che probabilmente gli hanno messo in una posizione in modo da non potersi modificare i voti da soli quindi dare una funzione in segreteria che sia separata dalla gestione dei database però è possibile appunto che la stessa persona fisica possa impersonare degli attori diversi in momenti diversi ma nel momento in cui si approccia il sistema informativo per svolgere un certo obiettivo un certo compito e beh veste i panni o dell'uno o dell'altro attore non può esserci ambiguità entra per far quello e quindi è entrato come impiegato della segreteria o come studente o come dipendente generico eccetera quindi la prima riga qua è il tipo di attore chiediamoci quali sono i tipi di attore e poi ci chiediamo che cosa possono volere dal sistema questi tipi di attore per raggiungere qualche loro obiettivo ciò che è importante per l'attore è l'obiettivo finale io sono un cliente della banca e voglio ritirare dei soldi quindi il sistema informativo mi deve offrire una funzionalità per eseguire un prelievo qui in qualche modo qui era più facile perché è un'azione concreta sono riuscito a scindere il desiderio l'obiettivo dell'attore dalla funzione che è in grado di supportare il raggiungimento di questo obiettivo a volte i due si confondono un pochino uno è il perché l'altro è il cosa faccio questo per ottenere quell'altro grammaticalmente questo è un complemento oggetto e questo è come si chiama un complemento di scopo fine scopo fine come si chiamava che è chiaramente più vicino all'intenzione dell'utente mentre quello complemento oggetto qua è più vicino al nome della funzione che il sistema dovrà offrire se riesco cerco sempre di descrivere gli obiettivi usando questa tripletta questo schema di frase la descrizione di un caso d'uso è importante anche identificare non solo chi è l'attore ma quali sono gli altri eventuali stakeholder interessati al caso d'uso cosa vuol dire interessati al caso d'uso interessati al fatto che quell'attore possa completare quell'obiettivo allora nell'esempio del pagamento del cassiere anche pagando in contanti il cliente è uno stakeholder del caso d'uso ha l'interesse che il cassiere concluda l'operazione così può prendere e andare via non è un attore non partecipa non interagisce col sistema ma un interesse nel corretto svolgimento del caso d'uso appunto il concetto di stakeholder è sempre un po' generico sono tutti portatori di interessi tutti gli altri tipi di attori gli utenti che traggono un beneficio di qualche tipo dal fatto che il caso d'uso si concluda possibilmente correttamente quindi nel caso del punto del cassiere che chiude che vi fa il conto lui è l'attore primario e ovviamente anche stakeholder l'attore è quasi sempre stakeholder quando non è puramente un esecutore materiale non ne frega assolutamente niente di ciò che sta facendo di solito l'attore primario è anche uno stakeholder e poi possono esserci altri stakeholder che sono gli altri umani persone che partecipano a quell'azione irresponsabili che è responsabile del punto vendita è uno stakeholder perché ha interesse che i conti vengano chiusi possibilmente in fretta eccetera eccetera quindi quando riscriviamo un caso d'uso uno degli ingredienti che ci dovremmo mettere che dovremmo inserire nella nostra riscrizione è qual è l'attore primario quali sono gli eventuali attori secondari qual è l'obiettivo espresso dall'attore primario quali sono gli eventuali ulteriori stakeholder quali non hanno l'obiettivo non hanno la patata bollente in mano di arrivare all'obiettivo ma hanno un interesse nel fatto che l'attore primario ci riesca ad arrivare la seconda frase di questa slide qua dice che nel caso d'uso dobbiamo limitarci a descrivere le azioni i comportamenti che hanno un qualche impatto sulla felicità degli stakeholder se descriviamo il sistema deve fare certe cose è perché a qualcuno fa piacere che lo faccia fa piacere tra virgolette perché non è magari un piacere personale ma è un interesse ha interesse che venga fatto il resto lo lasciamo fuori può essere parte opzionali parte non utili o parte che vengono inserite per motivi pratici perché magari tecnicamente serve un certo passaggio ma non ci interessa all'utente non fa piacere non interessa che ci sia non aggiunge valore ok un altro ingrediente qui stiamo un po' facendo la lista della spesa delle informazioni che dovremo scrivere in un caso d'uso poi vedremo un template un modello uno schema con cui poter descrivere queste informazioni ma prima dobbiamo capire che cosa significano l'altra cosa essenziale da definire è l'ambito lo scope cioè quali sono i confini dentro cui questo caso d'uso è stato progettato è un caso d'uso che fa parte del sistema che so di gestione esami quindi sì sarà sempre un caso d'uso parte del sistema della didattica però più nello specifico il suo ambito è quello gestione esami che comprenderà vari casi d'uso tipo prenotazione registrazione pubblicazione dei voti eccetera eccetera quindi un sistema molto ampio sarà fatto di varie parti di vari ambiti separati non li chiamo moduli perché non è detto che poi corrispondano i moduli software chiamiamo ambiti più generalmente e i casi d'uso sono diciamo ciascuno di questi ambiti avrà ovviamente una certa serie di funzioni che offre quindi in qualche modo questo scope ci dà diciamo l'indice di livello superiore e ci dice in quale contesto possiamo aspettarci che questo caso d'uso possa essere incontrato e nello stesso tempo ci dice per differenza che cosa non fa questo caso d'uso che cosa non tratta di sicuro quali effetti non avrà perché fanno parte invece di altre parti del sistema questo poi dipende ovviamente dai casi l'ambito può essere l'ambito più ampio lo scopo più alto è lo scopo di organizzazione cioè un caso d'uso generale a livello alto a livello ampio enterprise che sono magari i casi d'uso che implicano diciamo tutto il processo di business nel suo complesso oppure possono avere un ambito più ristretto che è quello se vogliamo su cui si lavora di più su cui lavoreremo di più è il caso duro relativo a una parte del sistema in particolare a una delle funzioni assegnate al software o addirittura potremmo avere un ambito ancora più ristretto beh quel modulino lì quella sorgente quella parte di progetto che ti ho assegnato deve fare quelle sotto funzioni quindi è diciamo così la tecnica della descrizione in casi duro può essere applicabile a livelli diversi come quasi tutte le tecniche che stiamo studiando e che vengono usate nell'analisi a seconda del livello di dettaglio che gli do la posso usare in senso più generale oppure la posso applicare a ambiti via via più ristretti quello che è importante ovviamente è dichiarare qual è l'ambito a cui si applica questa interazione ad esempio uno dei modi è quello di identificare ma è non è moltissimo usato perché è molto prolisso di identificare all'inizio tutta una serie di argomenti ambiti parole chiave attività che il sistema in generale deve fare la tabella che può diventare anche molto lunga e poi per ogni caso d'uso dire beh queste cose qua questi aspetti sono toccati e questi altri non sono toccati da questo caso d'uso quindi che cosa è dentro e che cosa è fuori cosa impatta e cosa non impatta questo caso d'uso oppure che è il modo che useremo noi è di raggruppare i casi d'uso sulla base degli attori che li possono eseguire o li possono desiderare li possono voler attivare quindi ci sono vari tipi di obiettivi vari tipi di attori e ogni attore può fare uno o più può attivare uno o più casi d'uso diversi noi questa informazione la rappresentiamo in forma grafica identificando abbiamo già visto l'omino per indicare il tipo di attore lo vale per indicare i casi d'uso supportati quindi gli obiettivi che l'attore può avere e che sistema dovrà soddisfare quindi io posso approcciarmi a un sistema Bancomat per dire perché voglio prelevare i soldi e quindi farò certe cose o perché voglio vedere il saldo del mio conto corrente e allora farò altre cose alcuni simili altri diversi o perché voglio caricare la mia scheda ricaricabile del telefono e allora passerò da menu anche completamente diversi in quel caso o tanti altri casi che il cliente può voler svolgere quando va al Bancomat a volte come in questo diagramma un insieme di casi d'uso può essere raggruppato non è obbligatorio ma a volte si può fare raggruppato da una componente da un rettangolo che etichettiamo con il nome di una componente del sistema se vogliamo esplicitare che quei casi d'uso sono forniti da quella componente o da quell'interfaccia quindi definisco ancora meglio l'ambito a livello del sistema quale parte del sistema è coinvolta nell'erogare nel supportare questi casi d'uso per quegli attori quindi il diagramma di casi d'uso rappresenta alcune informazioni rappresenta l'attore rappresenta l'obiettivo anche se in modo molto sintetico sotto forma di nome che scrivo descrizione che metto nell'ovale può rappresentare l'ambito lo scope in cui il sistema in cui il caso d'uso si svolge e lo scope è dato da due ingredienti uno è l'insieme di attori che possono accedere e due le componenti del sistema all'interno del quale questo diagramma si svolge è stato collocato quindi come sempre è una notazione grafica facile da leggere questa decisamente ma che contiene parecchie informazioni tutto sommato in poco spazio e in più mi dà anche una vista di insieme su quali sono tutti o un certo numero magari non ci stanno tutti in un diagramma solo perché diventerebbe troppo pasticciato dobbiamo dividerlo in più pagine ma una vista di insieme su un gruppo di casi d'uso correlati tra di loro quindi mi dà in un certo senso anche la vista di insieme sull'insieme ampio delle funzionalità offerte dal sistema ricordiamoci che poi ciascuno di questi non è una videata una pagina un bottone ma è una sequenza di azioni che poi dovremmo descrivere a parte non c'è nel diagramma la spiegazione dei vari passaggi la scriviamo a parte però questo è l'indice che mette tutto insieme dietro ciascuno di questi ci sarà una descrizione come abbiamo detto nella definizione del set di interazioni dell'insieme di interazioni tra l'altro è altamente probabile che questi obiettivi corrispondano alle attività del diagramma di processo perché se a un certo punto in un'attività diceva il giudice convalida la gara doveva fare quello ora dire che mi viene in mente quell'esercizio che a un certo punto un attore con ruolo di giudice avrà come obiettivo accenderà il sistema si avvicinarà al sistema con l'obiettivo di convalidare la gara quindi in un certo senso c'è una certa continuazione dell'informazione che avevamo dato a livello di processo vista adesso questa volta dal punto di vista degli attori che compiono queste azioni dove ci sarà anche qua aggiungeremo informazione perché potremmo vedere che magari alcuni casi di ruolo sono accessibili a più attori diversi abbiamo un dettaglio maggiore su chi sono gli attori come sono strutturati quindi stiamo aggiungendo dettaglio rispetto al modello di processo ciò che il modello di processo mi dà però che invece il modello di casi d'uso non mi dà sono le dipendenze temporali il modello di processo mi dice non puoi fare questo se non hai fatto l'altro prima nel caso d'uso non c'è sono tutti allo stesso livello sono tutti in qualche modo collegati al suo attore ma non ti dicono quando questo può essere fatto e quando quell'altro invece non può essere fatto questa è di competenza del processo dire quali parti del sistema sono attive in un determinato momento qui lo vediamo più quasi come l'elenco delle cose da fare ricordiamoci parliamo di requisiti funzionali ogni funzione è implementabile realizzabile separatamente dalle altre devo poter dire verificare che questa sia stata fatta correttamente in modo indipendente rispetto all'implementazione corretta delle altre quindi quando faccio l'elenco delle funzioni delle funzionalità del sistema e io sto usando i casi d'uso proprio per rappresentare le funzionalità del sistema le rappresentano il loro insieme tutte e non mi interessa che una funzione sia attivata solamente in un giorno preciso dell'anno perché deve esserci devo poter approvare poi ovviamente l'utente normale quando si collega non ci può arrivare perché non è proprio quel giorno dell'anno e va bene quindi qui quando elenco i requisiti funzionali li elenco indipendentemente dalle relazioni temporali di processo che avvengono tra di loro dietro ciascuno di questo ovale che cosa ci può stare e ci sta una descrizione la descrizione del caso d'uso può avere livelli di dettaglio diversi come tutto e ovviamente in momenti diversi del ciclo di analisi e aggiungerei anche per utenti diversi del documento dei requisiti servono livelli di dettaglio diversi allora per po' categorizzare questi livelli di dettaglio distinguiamo tra un brief cioè un livello di dettaglio sintetico in cui riassumo in un paio di frasi l'intero caso d'uso riassumo cosa? riassumo l'insieme di interazioni che avvengono nel caso d'uso quindi ad esempio nel caso del prelievo dal bancomat potrei dire l'utente inserendo il proprio pin può prelevare la somma di denaro che aveva richiesto virgola se disponibile possiamo anche aggiungere quello che non è ancora una specifica proprio precisa ma in un paio di frasi mi fa capire che cosa avviene mi dice mi parla di un pin mi parla di un inserimento di un pin mi parla di una scelta di un ammontare di denaro non mi dice se la scelta è tra un insieme di voci fisse oppure può inserire il valore non mi dà tutti i dettagli però mi spiega già che cosa a livello macro sintetico quali sono le informazioni che il sistema si scambia con l'utente oppure posso raccontarlo questo chiamato casual in modo informale attraverso una storia c'è il racconto immaginate di avere un giornalista alle vostre spalle o un cronista ancora meglio alle vostre spalle che dice l'utente si sta avvicinando al bancomat il bancomat lampeggia l'utente inserisce lo tessera e così di tutto il genere vi fa la radiocronaca di ciò che fate così magari contesto libero narrativa storia sommario riassunto oppure la stessa cosa invece molto più schematica quindi anziché avere il radiocronista che ve la conta mentre voi fate le cose vi sottolinea le vostre azioni avere un elenco l'elenco numerato fase 1 punto 1 punto 2 punto 3 punto 4 che cosa viene fatto che chiaramente non ha l'appeal né la leggibilità di una narrazione ma d'altro canto invece ha un livello di precisione maggiore allora noi proveremo a cimentarci col primo e il terzo formato nel senso che faremo degli use case in cui metteremo sempre la descrizione breve due righe e magari immaginiamoci che l'utente nel nostro sistema e cliente possa leggere queste due righe e capire cosa stai facendo e poi sotto aggiungeremo la descrizione dettagliata quelle dettagliate e quelle informali in qualche modo si equivalgono è solo la forma di rappresentazione noi da ingegneri preferiamo la versione più dettagliata più schematica sarà meno prosaica ma più precisa anche più facile tutto sommato da ridigere e già ci immaginiamo che magari il cliente del prodotto non la vada a leggere o possa anche non doverla andare a leggere a analizzare a capire se non magari in alcuni casi duri particolari che ci stanno particolarmente a cuore ma noi la facciamo perché ci serve per l'altra metà degli utenti del documento dei requisiti cioè i progettisti e gli implementatori del sistema allora noi quello che tanto per anticipare il laboratorio della settimana prossima la settimana prossima vi chiederemo di fare diagrammi di casi d'uso e per i casi d'uso descrivere la versione brief la versione breve sintetica poi invece la settimana successiva comincieremo ovviamente a ragionare insieme in aula ma la versione successiva parleremo anche della versione dettagliata richiede un attimo di tempo in più perché dovremo cosa vuol dire dettagliata non vuol dire solo dire andare a capo dopo ogni punto ma darci delle regole come numerarle come decidere tutte le eccezioni eccetera eccetera ok quindi magari comincieremo già a parlare della versione dettagliata ma sappiate che per le restrizioni della settimana prossima non ve la chiediamo ancora ok sia come orario che come punto dell'argomento direi che è il momento buono per fermarci quindi ci vediamo tra un po' di pausa grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti